È già passato un po' da quando vi ho parlato della caduta di Napoleone e però poi abbiamo fatto una sorta di pausa nel nostro procedere cronologicamente perché vi ho parlato dei cambiamenti dell'Ottocento, i cambiamenti nello Stato, negli ideali, il sorgere di varie ideologie, il sorgere anche di nuovi problemi e degli effetti anche della rivoluzione industriale. Ma adesso bisogna riprendere il corso normale della storia, almeno della storia politica, perché vale la pena di vedere cosa accadde in Europa subito dopo la caduta di Napoleone e soprattutto aprire la pagina della cosiddetta restaurazione, un periodo storico importante, periodo storico che fu fonte di grandi problemi, subbugli, sommovimenti e che ci porterà poi ai cambiamenti della seconda metà dell'Ottocento un po' alla volta e anche verso quell'importante percorso che riguarda l'Italia del cosiddetto risorgimento. Andiamo a cominciare. Un po' di caffè, come sempre. Batman, Topolino, io, che mi chiamo Ivano Ferretti, sono un insegnante di storia e filosofia delle superiori, insegno in un liceo scientifico di Rovigo in Veneto e dal marzo del 2020 uso questo canale per preparare delle video spiegazioni di storia e di filosofia che poi propongo a volte ai miei alunni quando siamo in didattica a distanza, ma in generale mi pare siano fruiti sempre più spesso da studenti universitari, altri insegnanti, altri studenti, semplici curiosi che vogliono magari ripassare cose che hanno fatto 30 anni fa o scoprirle per la prima volta. Quindi benvenuti a tutti. Oggi parliamo di storia, parliamo di storia dell'Ottocento, una cosa che normalmente a scuola si fa in quarta, cioè parliamo della restaurazione. Prima di tutto bisogna che capiamo cosa si intende con restaurazione, cosa significa questa parola. Allora, restaurazione, con questo termine, si identifica quella fase storica che è presa via tra il 1814 e il 1815, in particolare tramite il congresso di Vienna di cui oggi parleremo, in cui si tentò di davvero restaurare l'Europa, cioè riportarla a com'era 25 anni prima. Perché proprio 25 anni prima? Perché rispetto al 1814, 25 anni prima fatta la sottrazione, venne 1789, l'anno in cui era cominciata la rivoluzione francese. Cioè le grandi potenze che si incontrarono a Vienna in questo congresso importante, decisero di tentare di fare in modo che la rivoluzione francese non fosse mai avvenuta, cancellare, tirare un colpo di spugna, cancellare tutto quello che era accaduto nell'età della rivoluzione francese e poi soprattutto nell'età napoleonica e riportare indietro le lancette dell'orologio, riportando, restaurando l'antico. E questo vale sia per le famiglie regnanti, soprattutto a primo impatto questo è evidente quando si va a vedere chi regna e dove regna. Perché se vi ricordate la rivoluzione francese prima ma poi ancora di più Napoleone aveva cambiato faccia a tutte le monarchie europee, aveva cacciato il Borbone da una parte, aveva imposto sovrani da tutti i parenti di Napoleone, per lo più in Italia, dappertutto, in Spagna, in Olanda, aveva costretto le altre potenze a scendere a patria, a ridimensionarsi, insomma bisognava rimettere a posto le cose e riportare sui troni le vecchie dinastie, le vecchie famiglie regnanti, questo è un primo aspetto. Un secondo aspetto era anche quello di ripristinare i vecchi confini, perché l'Austria si era vista un po' compressa, la Prussia si era vista compressa, varie potenze europee avevano perso territori quando Napoleone era avanzato per l'Europa e aveva soggettato mezza Europa. Ora bisognava restituire le terre a chi di dovere, anzi magari anche aumentarne i confini, visto che alla fine erano riuscite queste potenze a sconfiggere Napoleone. Ma poi, oltre che le famiglie regnanti, oltre che per quanto riguarda i confini, bisogna restaurare soprattutto l'ancien regime. L'idea che emerge a Vienna quasi subito da parte dei grandi regnanti europei è quella di non solo rimettere a posto i tasselli delle famiglie e dei confini, ma anche proprio davvero cancellare tutti gli esiti della rivoluzione, fare finta che non sia mai avvenuto, fare finta che gli ideali liberali, gli ideali borghesi di cui la rivoluzione si era fatta portatrice non avessero mai trionfato e quindi ritornare all'Europa del 1788 per capirci, l'Europa in cui dominavano ancora le distinzioni di classe, in cui la nobiltà era ancora privilegiata a livello legale in tutti i paesi e in cui la borghesia sopportava il peso delle tasse e non avanzava a grosse pretese. Questa è l'idea. È un'idea che riesce? In realtà lo vedremo quasi subito, no. La ristorazione è un tentativo fallimentare, almeno nel medio e lungo periodo. Nel breve periodo sì, qualcosa si ottiene, per carità, le potenze rinette a Vienna riescono a rimettere in piedi i vecchi stati, le vecchie famiglie, anche a ripristinare in alcune zone, in alcune situazioni i vecchi diritti feudali e quindi l'ancien regime, ma è un fuoco di paglia, è una vittoria di pirro, potremmo dire, dura poco, perché cancellare la storia forse non è mai così facile, non è possibile riportare indietro così facilmente le lancette dell'orologio. La borghesia certo nel 1814-1815 forse è parzialmente sconfitta, ma si rifarà avanti. Ora che ha assaggiato i vantaggi di leggi che danno uguaglianza davanti alla giustizia, che danno libertà d'azione, libertà economica, libertà di parole, ora che ha assaggiato queste cose la borghesia non è più così tanto disposta a rinunciarvi. Certo, se glielo impongono ci rinuncia, ma ci rinuncerà il meno possibile, presto si farà avanti per riottenere quei diritti che sembra aver perduto. Infatti, certo, ripeto, questi primi anni sono anni di restaurazione, ma poi inizieremo a vedere a brevissimo nei prossimi video, che già nel 1820-1821 ci sono i primi sommovimenti, le proteste, i moti rivoluzionari, poi ne arrivano altri nel 30-31 e poi ne arrivano altri ancora nel 48 e lì sarà davvero bagarre, sarà davvero una grande rivoluzione europea, la primavera dei popoli, come si dirà, è successo un 48 non a caso. Segno che questi tentativi sono velleitari, che questi tentativi di ripristinare il vecchio, ripristinare l'antico sono destinati a un fallimento. Le uniche situazioni in cui qualcosa riesce è laddove almeno si capisce che non si può completamente cancellare quello che è avvenuto e si cerca di trovare un compromesso tra un po' di restaurazione e un po' di mantenimento del nuovo, ma per lo più questi tentativi finiranno per fallire. Parliamo allora di questo congresso di Vienna, si riunì tra il 1814 e il 1815 appunto nella capitale austriaca e servì davvero a tracciare la mappa dell'Europa di lì in poi, da lì in poi dopo la caduta di Napoleone. Le protagoniste principali furono le quattro potenze che avevano sconfitto Napoleone, cioè Austria, Gran Bretagna, Regno Unito, Prussia e Russia. Questi furono i quattro grandi che teoricamente avrebbero dovuto sedersi al tavolo e decidere tutto. La Francia e la Spagna erano invitate sì, ma invitate in un certo senso di secondo rango, avrebbero dovuto più che altro partecipare solo ad alcuni colloqui e accettare lo status deciso dagli altri quattro. Poi vedremo che la Francia in realtà riuscirà a gestirsela abbastanza bene e avere maggiore influenza di quella che si pensava potesse avere. Però inizialmente le quattro grandi potenze, le vincite, ci ripeto, Austria, Regno Unito, Prussia e Russia. Tra questi quattro sicuramente un ruolo di grande importanza va assegnato all'Austria, padrona di casa che ospitava questo congresso, anche perché a guidare l'Austria, a rappresentare l'Austria in queste conferenze, in questi colloqui, fu un ministro molto molto abile, famoso anche proprio per questa sua abilità, Clemens von Metternich, ministro degli esteri e cancelliere, quindi aveva varie cariche, qui agiva come ministro degli esteri e lui riuscì effettivamente a muovere le sue pedine in maniera piuttosto soddisfacente per l'Austria che riuscì a uscire abbastanza rafforzata come però, bisogna anche dire, altre potenze come la Prussia e come la Russia. Metternich non fu però l'unico protagonista, perché certo ogni paese aveva i suoi rappresentanti, ma ce ne fu un altro ministro che emerse per abilità, per capacità, più o meno quasi alla pari, direi, per peso rispetto a Metternich, però un ministro che inaspettatamente riuscì ad avere un certo peso, avere un certo, così, ascendente sulle potenze. Questo ministro fu il ministro Talleyrand. Talleyrand era ministro degli esteri francesi, quindi rappresentava la Francia che teoricamente doveva essere la potenza che meno voce in capitolo avrebbe dovuto avere, perché era la sconfitta, era la Francia che aveva provocato questo gran guazzabuglio europeo, questa gran situazione di problematica tra la rivoluzione e Napoleone aveva devastato l'Europa, ora la Francia potenza sconfitta non avrebbe avuto diritto a dire niente forse. Talleyrand riuscì invece, grazie ad abili manovre, a comunque garantire una certa integrità per la Francia, ad ottenere buoni risultati per la Francia, segno anche della sua capacità diplomatica. Tra l'altro Talleyrand era davvero un personaggio per tutte le stagioni, perché era stato ministro già prima della rivoluzione, poi aveva avuto compiti importanti sia durante la rivoluzione, sia durante l'epoca napoleonica, l'età napoleonica e adesso era di nuovo ministro con la restaurazione, cioè davvero, ripeto, un uomo per tutte le stagioni, perché riusciva a districarsi laddove altri fallivano, dovete tenere presente che nei 25 anni di rivoluzione, Napoleone eccetera, molti avevano perso la testa letteralmente in Francia e molti uomini politici avevano avuto momenti di gloria e momenti di caduta clamorosa. Talleyrand forse è l'unico che riuscì a assicurarsi una buona stella qualsiasi fosse il regime al potere e però appunto aveva sicuramente un certo talento diplomatico, ad esempio la prima cosa che Talleyrand riuscì a portare a casa il primo grande risultato fu l'applicazione del cosiddetto principio di legittimità, questo principio che poi sarà forse il principio cardine del congresso di Vienna, in cosa consisteva? L'idea era quella che bisognasse ristabilire i legittimi sovrani e legittimi confini di ogni paese, cioè quello che vi dicevo prima, bisogna rimettere sul trono della Francia, della Spagna, dell'Austria, delle varie stati italiane eccetera, i legittimi sovrani, quelli che c'erano cioè prima della rivoluzione francese, ma anche ristabilire i confini come stavano prima e questo certo era un principio su cui molti erano d'accordo, ma Talleyrand riesce a farlo applicare anche alla Francia, cioè non possiamo dire che dobbiamo usare il principio di legittimità per l'Italia, per la Germania, per i Paesi Bassi e non per la Francia, bisogna applicarlo anche per la Francia, il che voleva dire che certo sul trono francese ritornavano i Borbone e vabbè quello ormai era abbastanza scontato, ma soprattutto, e questo era quello che interessava Talleyrand, che i confini della Francia dovevano rimanere intaccati, cioè bisognava tornare ai confini della Francia pre-rivoluzionaria o almeno a quelli, alla fine si stabilirà del 1791 prima che la Francia entrasse in guerra con mezza Europa, bisogna ristabilire i confini della Francia, quelli classici. Cosa importante, uno dice scontato, mica tanto scontato, perché la Francia rischiava fortissimamente di essere, di diventare terreno di conquista per gli altri popoli, la Francia aveva occupato mezza Europa, adesso chiaramente mezza Europa avrebbe voluto riprendersi non solo i territori persi, ma anche rubare alla Francia qualcosa di più, perché la Francia deve avere uno Stato così grande che ci ha scombusolato in questa maniera, prendiamole delle regioni e poteva anche avere un suo senso che l'Olanda, l'Italia, la Savoia e la Spagna pretendessero regioni francesi. Ecco, Talleyrand riesce a ottenere questo, che la Francia non venga toccata, che la Francia rimanga nei confini che aveva nel 1791. Ma come cambiarono i confini? Facciamo una panoramica e magari vi mostro anche a video qualche cartina. Allora, intanto la Francia, vi ho detto, i confini vengono ristabiliti, questo fu importantissimo per Talleyrand e d'altronde la Francia si decise, proprio su spinta di questo ministro, di non umiliarla. La si sarebbe potuto umiliare perché in fondo la si riteneva colpevole di tutto quello che era avvenuto nei 25 anni precedenti, ma si preferì non umiliarla perché si pensava che se si fosse umiliata la Francia si sarebbe potuto provocare il risentimento delle nuove rivoluzioni, non si voleva che la Francia subisse nuove rivoluzioni, bisognava che restasse un territorio tranquillo e quindi bisognava anche non colpirla troppo duramente. Quindi Francia ristabilita nei suoi confini con la sua famiglia regnante di Borbone, sale al trono Luigi XVIII, l'avevo già citato quando avevamo parlato della fine di Napoleone dei 100 giorni, in descrizione trovate il link, Luigi XVIII fratello di quel Luigi XVI che era in carica quando era scoperta la rivoluzione e a cui poi era stata tagliata la testa. Luigi XVIII, poi vedremo come tenterà di gestire il potere, però la Francia ecco da tutte le potenze europee anche da quelle vincitrici viene considerata forse il vero baluardo della restaurazione, bisogna che la Francia diventi un esempio positivo di quello che vogliamo fare in Europa, restaurare, mantenere la pace eccetera. Per stare un po' più sicuri però si decide anche di mettere attorno alla Francia degli stati un pochino più forti, in modo che potessero eventualmente frenare l'avanzata della Francia, ad esempio si ingrandì il regno dei Paesi Bassi, cioè l'attuale Olanda più o meno, perché si fece inglobare il Belgio, l'attuale Belgio, divendero uno stato unico sotto la corona e sotto il regno dei Paesi Bassi, vedremo che non durerà per molto, però intanto per il momento è così. Quindi si ingrandisce lì, Austria, Prussia, Russia cosa accade? Allora l'Austria, l'Austria grazie a Metternich effettivamente ottiene dei buoni territori, una buona influenza, intanto rafforza fortissimamente la sua influenza nel nord Italia, si crea nella zona dell'attuale Lombardia del Veneto il regno Lombardo-Veneto, il cosiddetto regno Lombardo-Veneto che viene inglobato nell'impero asburgico, quindi la Lombardia già era stata austriaca da molto tempo, ricorderete già da prima delle imprese di Napoleone che l'Austria era sotto, che l'ascurata della Lombardia era sotto gli austriaci, ma il Veneto prima di Napoleone era una repubblica indipendente, questa repubblica non rinasce, la Serenissima non rinasce, si forma un regno unitario tra Lombardia e Veneto, tutto sotto il controllo degli austriaci, quindi territorio anche importante che gli austriaci controllano, questo direttamente, poi indirettamente però con il controllo anche altre zone dell'Italia, perché hanno una forte influenza sul papato, sullo stato della chiesa, sulla Toscana, sul granducato di Toscana, con i quali i granducchi sono comunque imparentati con la famiglia di Osburgo e in più si imparentano anche con il Borbone del sud Italia, nel sud Italia vengono ripestinati i Borbone nel regno di Napoli, ma questo regno di Napoli cambia nome, diventa il regno delle due Sicilie, tra Sicilia e regno di Napoli ormai unitari completamente e governato di Borbone, ripeto, però imparentate con gli austriaci e quindi comunque sotto l'influenza austriaca, quindi l'Italia in un modo o nell'altro è molto legata agli austriaci. Non solo gli austriaci quindi hanno una forte influenza sull'Italia, ce l'hanno anche sulla zona tedesca, perché ricorderete che Napoleone aveva sciolto definitivamente il Sacro Romano Impero Germanico dopo 900 anni di storia, 800 erotti, si decide di non ricreare l'impero, ormai l'impero è morto e non ha più senso ricrearlo, si decide però di creare una confederazione germanica, cioè proprio una sorta di alleanza ancora molto tenue, molto vaga, un raggruppamento degli stati tedeschi, guidato però sotto l'influenza austriaca. Tra l'altro il numero degli stati tedeschi cala di numero, erano tantissimi fino a poco tempo prima perché era molto fasta agli altri la situazione, si riesce a riunire alcuni stati, l'elli un po' più piccoli in stati un pelino più grandi e comunque l'influenza in questa zona è principalmente austriaca, quindi gli austriaci si assicurano importanti territori, anche i prussiani sono contenti perché anche loro ottengono territori soprattutto a ovest, quindi si spostano sempre di più verso l'area tedesca, infatti gli austriaci vogliono l'egemonia sulla confederazione germanica proprio per contrastare l'influenza dei prussiani, comunque la Prussia aumenta, acquisisce territori soprattutto abbastanza ricchi, abbastanza importanti economicamente e si ingrandisce anche la Russia, anche lei pretendeva di aumentare i propri confini, ottiene una buona fetta della Polonia che poi per il resto viene spartita, una buona fetta della Polonia e anche Varsavia, c'è altre città importanti, ottiene anche la Finlandia, quindi Russia più forte, Prussia più forte, Austria più forte, il quarto grande che manca l'appello è il Regno Unito, il Regno Unito ottiene grandi territori? La risposta è no, il Regno Unito non ha nessun interesse ad aumentare i propri territori in Europa, non gliene frega niente, il Regno Unito ha le sue colonie ormai un po' in giro per il mondo e da queste colonie tra i grandi vantaggi non ha bisogno di incrementare i territori nel vecchio continente, vuole solo assicurarsi e su questo starà molto attento, che nell'Europa continentale nessuna potenza acquisisca troppa forza, cioè al Regno Unito interessa come tradizionalmente interessava, che nell'Europa continentale ci fosse un equilibrio tra le varie potenze, che nessuna prevalesse in maniera netta sulle altre in modo da garantirsi una pace in qualche modo e che questa Europa non andasse a disturbare poi i problemi, gli interessi del Regno Unito. Per quanto riguarda l'Italia, rimane a dire una cosina veloce, il Piemonte, cioè il Regno di Sardegna, di Savoia, si ingrandisce anch'esso perché i Savoia ottengono delle parti della Savoia come regione che erano vicine alla Francia, alla Svizzera, ottiene qualche piccolo territorio lì, ma soprattutto ingloba nel suo regno, la Liguria. Quindi adesso che la Liguria era stata la Repubblica Ligure, ricorderete durante la Rivoluzione, adesso la Liguria passa sotto il Regno di Sardegna, insomma il Regno di Sardegna, certo non è grandissimo, ha più o meno il Piemonte, la Vall d'Aosta, poco altro, più la Liguria, più la Sardegna, insomma non è gigantesco, ma ha i suoi porti, ha le sue attività, ha una sua struttura che vedremo consentirà poi un certo progresso economico non un po' più subito, ma tra qualche anno. Questa è più o meno la panoramica dell'Europa alla fine del congresso di Vienna. Ma al di là dei confini, dei territori, quello che più di tutto interessava alle potenze riunite a Vienna era garantire una pace di duratura, bisognava certo ripristinare tutto come era prima, ma anche evitare che l'instabilità ritornasse a emergere, che nuove guerre scoppiasse dopo 25 anni di guerre praticamente continue e tutti volevano, un periodo di pace ed effettivamente una pace internazionale si andò a creare, come vedremo per 40 anni rotti, ci fu una globale pace tra le principali potenze europee, almeno a livello di guerre tra le potenze. Certo questo non garantì però una pace assoluta perché come vedremo, come vi ho già anticipato, all'interno dei paesi scoppiarono rivolte, moti di tutti i tipi, quindi non c'erano le guerre tra i paesi, ma c'erano conflittualità interne ai paesi. Comunque almeno dal punto di vista diplomatico, effettivamente da questo punto di vista fu un successo quello che si ottenne a Vienna, anche perché venne suggellato da alcune alleanze che dovevano proprio garantire questo concerto europeo, questa pace europea, anche quando si parla di concerto europeo si intende il desiderio di dirimere le varie questioni, diplomaticamente non c'è più bisogno di farsi sempre la guerra, possiamo anche parlarne, possiamo anche decidere insieme, concertare insieme le strategie da seguire, le soluzioni da adottare, questa era l'idea. Il concerto europeo vuol dire questo, vuol dire mettiamoci d'accordo senza dover ricorrere sempre alle guerre e certo per potersi mettere d'accordo in maniera efficace è bene anche avere delle alleanze salde. Due alleanze nascono alla fine di questo congresso di Vienna, in parallelo potremmo dire che avranno un certo peso negli anni successivi. La prima alleanza viene chiamata Santa Alleanza, nasce su iniziativa dello zar di Russia, Alessandro I e dà un forte connotato religioso, già lo sentite, Santa Alleanza. C'è un richiamo al cristianesimo, certo anche non proprio al cattolicesimo o all'ortodossia perché riunisce potenze che la Russia ortodossa, l'Austria cattolica, ma ha il cristianesimo quantomeno. Prende inizialmente tre potenze, Austria, Prussia e Russia, quindi tre potenze del centro-est Europa. Più tardi si aggiungerà anche la Francia, quindi la Francia che all'inizio sembra dover rimanere esclusa da queste alleanze, alla fine riuscirà a entrare in questa Santa Alleanza e questo per darsi anche un tono diplomatico, per avere un peso a livello diplomatico importante. Questa è la prima alleanza che incontreremo ancora, la Gran Bretagna e il Regno Unito non ci entri. La seconda alleanza invece in cui entra la Gran Bretagna si chiama quadruplice alleanza, formata dalle quattro potenze vincitrici, Austria, Prussia, Russia e Regno Unito. Questa nasce con un obiettivo ben preciso e forse unico, quello di tenere sotto controllo la Francia. La Francia l'abbiamo ridisegnata, abbiamo messo sul trono i borbone, certo abbiamo creato le portenze vincitrici tutte le premesse per garantire una pace, ma la Francia va tenuta ad occhio, perché non ci fidiamo neppure troppo di questa Francia. Allora si crea questa quadruplice alleanza che è proprio quell'obiettivo principale. Chiaramente la Francia non entra nella quadruplice perché non ha senso, la quadruplice nasce per controllare proprio la Francia. Terminato il congresso di Vienna, in Europa iniziarono a cambiare tutti i confini, i regnanti, eccetera, ma soprattutto si diffuse una ventata di conservatorismo, cioè un po' in vari paesi europei, quasi tutti i paesi europei, non solo si cambiarono i confini, i regnanti, eccetera, ma si tentò davvero di approgare molte novità, di ritornare indietro, riportare al potere le forze più conservatrici che erano state tra l'altro frustrate nei 20-25 anni precedenti. Ad esempio facciamo una panoramica, anche qui partiamo dal Regno Unito. Effettivamente dopo la fine del congresso di Vienna per qualche anno stettero al potere i toris, cioè i conservatori, ma soprattutto il ramo più conservatore dei conservatori, il ramo più di destra dei conservatori, quindi una fazione fortemente contraria anche alla tolleranza religiosa, fortemente anglicana, infatti ci fu qualche tensione con le minoranze religiose, ma soprattutto una fazione che tentò di avvantaggiare i proprietari terrieri e sfavorire invece l'industria, che pure in Inghilterra ormai era ben avviata, forte e cercava di esportare. Come fece questa fazione al potere a aiutare i proprietari terrieri? Tramite l'innalzamento dei dazi doganali, come sapete, dovreste già sapere da molto tempo, i dazi doganali sono le tasse sulle merci in ingresso e in uscita dal paese. Perché questo danneggiava gli industriali? Perché gli industriali esportavano, erano in una fase in cui l'industria inglese è la più avanzata del mondo, forse anche l'unica, perché siamo all'inizio dell'Ottocento e aveva bisogno di esportare prodotti finiti e di importare anche materie prime. Questi dazi doganali la penalizzano e invece proteggono le campagne inglesi dalla concorrenza degli altri paesi europei. Questo quindi fu malvisto dal ceto industriale che pure si stava rafforzando e soprattutto fu malvisto anche dalla popolazione, perché l'effetto di questo innalzamento dei dazi doganali fu soprattutto quello dell'innalzamento anche del costo della vita, perché senza più la concorrenza internazionale i proprietari terrieri inglesi finirono per alzare i prezzi dei loro prodotti, quindi senza più difficoltà a vendere anche a prezzi più alti e questo provocò un aumento generale dei prezzi, un aumento del costo della vita, le classi più umili che in Inghilterra erano ormai forti numericamente, cioè tanti, i proletari che facevano fatica, davvero tanta fatica a campare, vedendosi aumentare i prezzi, portarono a subbugli, proteste anche di piazza, ma anche risposte molto dure da parte del governo. Insomma in Inghilterra si creava un clima un po' duro, abbastanza duro in questi anni, ma l'Inghilterra non fu l'unico paese ad avere difficoltà di questo tipo. Anche in altre parti d'Europa, come dicevo, l'ondata fu quella antiliberale, conservatrice, ad esempio in Spagna il nuovo re, il re ripristinato Ferdinando VII, però proprio una dura repressione di ogni corrente liberale, di ogni intellettuale, di ogni fazione liberale, in modo da cancellarli teoricamente dalla faccia della Spagna, anche se come vedremo questo risultato fu molto parziale. Un po' più tenue fu la situazione invece nel nord Europa, nel senso che nei Paesi Bassi, in Scandinavi, in alcune regioni della Germania, rimasero in piedi i parlamenti che si erano andati creando negli anni precedenti, però parlamenti piccoli, ristretti, eletti a soffraggio molto molto ristretto e con poteri piuttosto limitati. Qualcosa del genere tra l'altro si può vedere anche in Francia, perché in Francia come vi ho detto, sia lì al trono, tornò sul trono Luigi XVIII, fratello minore di Luigi XVI e questo Luigi XVIII subito tentò di ringraziarsi il popolo concedendo una Costituzione, anzi a dire il vero non volle chiamarla Costituzione perché era forse troppo impegnativo, ricordava troppo gli anni della rivoluzione, viene chiamata Carta, quindi si parla della Carta del 1814 con cui appunto questo Luigi XVIII cercò anche certo di ripristinare i vecchi valori dell'ansian regime in qualche misura, ma anche di concedere qualcosa alla popolazione, alla borghesia francese, in modo da dire sì io torno, ma non voglio cancellare tutto quello che è stato, si cercò un compromesso direi, infatti questa carta è abbastanza interessante perché ristabilisce, ridà, concede le libertà fondamentali, la libertà di parola, la libertà d'opinione, la libertà di stampa sono ancora garantite, quindi già un qualcosa di importante, in più mantiene in piedi il Parlamento, anche se lo riforma, un Parlamento bicamerale con due camere, una chiamata Camera dei Pari che era di nomina regia, quindi simile alla Camera di Lorde inglese, ma l'altra la Camera dei Deputati invece è elettiva, quindi rimane la possibilità da parte del popolo di dire la propria e partecipare all'azione politica tramite il potere legislativo, attenzione però, la legge elettorale che porta all'elezione della Camera dei Deputati prevede un soffraggio molto ristretto, nel senso che hanno diritto al voto in Francia con questa carta circa 100 mila persone, pochissime rispetto a quella a cui si era abituati con la rivoluzione francese, dove si era arrivati poi anche al soffraggio universale, ma anche in frasi meno estreme a qualche milione di votanti, qui siamo a 100 mila pochi, solo i più ricchi in pratica, perché il soffraggio è basato sul censo, cioè sulle tasse che si pagano, quindi solo l'alta borghesia sostanzialmente e le classi molto molto agiate possono partecipare al voto, però rispetto a quello che forse si temeva è già qualcosa, c'è da dire però anche che questo Parlamento aveva poteri piuttosto limitati, quindi sono concessioni molto parziali che Luigi XVIII fa al popolo, c'è però anche da sottolineare che all'interno di questa carta, al di là poi della divisione dei poteri di queste questioni qui, sono mantenute alcuni elementi dell'età napoleonica, ad esempio è mantenuto il codice napoleonico, il codice napoleonico non viene abrogato, viene mantenuto in piedi ed è importante, perché anche nel codice napoleonico c'erano alcuni importanti diritti della borghesia, il divorzio etc., la proprietà privata e così via, vengono mantenute le scuole così come le aveva delineate Napoleone, quindi in buona misura laiche, quindi è importante anche questo, viene mantenuta anche l'amministrazione pubblica, come era stata disegnata da Napoleone, i prefetti e tutti questi apparati burocratici che avevano ben funzionato durante l'impero napoleonico vengono mantenuti e infine, forse la cosa più importante per quello che poi accadrà dopo, si decide anche che le terre che erano state requisite durante la rivoluzione alla chiesa e ai nobili non debbano essere restituite. Attenzione, questo è un punto chiave perché lo ritroveremo, ricorderete che durante la rivoluzione francese la rivoluzione aveva abolito i privilegi feudali, aveva abolito tante cose, ma poi a un certo punto aveva proprio requisito le terre, cioè le terre degli ordini soppressi, le terre di molti nobili sono state prese dallo Stato e poi rivendute tramite aste. Quindi c'erano stati molti che dalla fine del Settecento e all'inizio dell'Ottocento avevano speso tanti soldi, dato soldi allo Stato per comprarci delle terre e poi si le avevano fatte fruttare, eccetera. Ora il rischio per questi proprietari terrieri era che se cadeva Napoleone, se cadeva tutto, che il nuovo regime, che voleva però richiamarsi al vecchio regime, imponesse di restituire le terre alla chiesa e di restituire le terre ai nobili. Quindi questi che avevano comprato queste terre, lavorate e fatte fruttare, avrebbero perso i loro investimenti. Questi che temevano questo esito vennero però calmati perché Luigi XVIII disse no, le terre rimangono in mano vostra, chi le ha comprate durante la rivoluzione se le tiene. Una mossa che servì a calmare gli animi, a non far troppo preoccupare la progresia che effettivamente avrebbe reagito probabilmente molto male in una situazione diversa, ma creò anche del malcontento, bisogna dirlo, sia tra gli ecclesiastici sia tra i nobili che invece speravano caldamente di riavere indietro le loro terre, per loro fu un cospicuo danno economico. Però questa è la soluzione che alla fine Luigi XVIII trovò e che per qualche anno sembrò reggere. Facciamo una veloce panoramica anche sull'Italia. Vi ho detto si è rafforzato il Regno di Sardegna, ecco il Regno di Sardegna si è politicamente e geograficamente rafforzato, ma è forse il più duro contro gli ideali liberali, contro quello che si era ottenuto durante il periodo napoleonico, perché il sovrano che si chiama Vittorio Emanuele I intanto cancella tutte le leggi napoleoniche nate durante il dominio francese, via tutto. Affida la scuola alla Chiesa, ritorna ad affidarla alla Chiesa, quindi quella opera di laicizzazione che era iniziata con i francesi viene cancellata e soprattutto compie un'epurazione nella pubblica amministrazione, cioè tutti quelli che avevano manifestato simpatie per i francesi, simpatie filo giacobini, etc., a casa e fuori dallo Stato, quindi un giro di vita piuttosto duro. Ultima cosa importante, segno anche di questo ritorno un po' all'antico, ritorno anche a dare importanza alla Chiesa Cattolica, vengono varate nuove forme di discriminazione verso gli ebrei e verso i valdesi, verso cioè le minoranze religiose. Per qualche anno il Piemonte sarà forse lo Stato più conservatore all'interno della scena italiana. Diversa la situazione invece ad esempio in Toscana, dove tornano i Granducchi, Ferdinando III tenta di ripristinare un po' quella tradizione del dispoltismo illuminato di cui abbiamo parlato spesso proprio in Toscana con Pietro Lopoldo, ad esempio in descrizione trovate il link, se siete curiosi potete andare a rivedere, perché anche questo Ferdinando III effettivamente vara alcune riforme, soprattutto in campo agricolo, promuove innovazioni anche se il tipo di contratto dominante in Toscana rimane la mezzedria, però qualche innovazione c'è e poi soprattutto garantisce una certa tolleranza dal punto di vista religioso, dal punto di vista delle idee. Firenze in effetti vive una fase rigogliosa dal punto di vista culturale, perché a Firenze si è assicuri di poter esprimere almeno in parte le proprie idee in maniera piuttosto libera. Nel Regno del Sud, nel Regno delle Lui Sicilie che si è appena formato in questa maniera, si tenta di mantenere in piedi almeno qualcosa dei progressi che si erano fatti durante l'età napoleonica, ad esempio si erano imposte nel corso degli anni delle leggi antifeudali nel Regno di Napoli, ma non ancora in Sicilia, si tenta di estendere queste leggi anche in Sicilia, ci si riesce però con grande difficoltà perché i baroni siciliani fanno una forte opposizione a questi tentativi ed effettivamente proprio questa grande opposizione, questa difficoltà frenerà poi altri tentativi di riforma, i Borbone forse avrebbero voluto usare qualche riforma in più ma si fermano lì quando vedono che l'area che tira non è buonissima. Ultimo territorio di cui vale appena parlare, velocemente la Lombardia, la Lombardia vi ho detto insieme a Lombardo Valeto passa sotto l'Austria, Lombardia è forse la zona più interessante in Italia in questo momento perché ci sono grandi intellettuali, ci sono idee, le vedremo, sarà anche la zona più calda per certi versi durante i vari moti che scopriranno in Italia, però ci sono gli ostiaci in Lombardia e gli ostiaci useranno il pugno di ferro, cioè amministreranno questo territorio con grande durezza, anche con eccessiva durezza, ad esempio grande censura della stampa, arriveranno a chiudere molte riviste, tra cui il famoso il conciliatore, l'importante rivista milanese e molte altre riviste e grande attenzione a frenare ogni impulso liberale, ogni idea nuova che invece a Milano si sperava di far circolare. Questa è la situazione che regge l'Europa, torna a 1815, 1816, 1817 in questi anni qui, vedremo che sarà una situazione molto instabile, nonostante a Vienna si fosse tentato di creare grande stabilità, in realtà questa stabilità magari c'era tra Stato e Stato ma non all'interno degli Stati, infatti già nel prossimo video che faremo di questa serie di video, siamo dedicati alla storia di Quarta Superiore, parleremo dei primi moti, quelli del 20-21, 1820-1821 che già misero in luce che la situazione era destinata a non durare a lungo, poi parleremo della indipendenza greca, parleremo di varie cose, ma nei prossimi video. Per il momento questo è tutto, in descrizione trovate come al solito l'elenco dei punti che ho trattato oggi, di fianco c'è un numerino in blu, se ci cliccate vi riparte il video esattamente da quel punto e in più trovate i link agli altri video che ho citato, alle playlist di storia di filosofia per vedervi tutto l'elenco dei video che ho fatto finora tantissimi in ordine e per potervi consultare, certo manca ancora qualche pezzo ma nel giro di un mesetto dovrei riuscire forse a completare il tutto, quindi poi saranno abbastanza completi. Ci vediamo presto per nuovi video di storia, filosofia, educazione civica eccetera. Ciao alla prossima! Ciao!